E' stato l'incontro con Walter Veltroni, moderato dal direttore artistico del teatro Andrea Bruno Savelli, ad aprire la rassegna La politica è bella al teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio. Le tre canzoni Father and Son, Il viaggio e la canzone dell'amore perduto, scelte dall'ex sindaco di Roma, hanno scandito l'incontro in cui il politico ha anche presentato il suo nuovo film I bambini sanno, in uscita il 23 aprile. Argomenti principali dell'incontro sono stati la politica culturale e il rapporto tra politica e comunità. All'incontro hanno partecipato anche Dario Parrini, segretario regionale del PD, ed Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio.